6 gennaio arriva la Befana a Bottrighe. Il gruppo folkloristico Bontemponi e Simpatica Compagnia e il gruppo sportivo di Bottrighe vi invitano alla sesta festa della Befana. Giovedì 6 gennaio 2011 a partire dalle ore 15 potrete ammirare lo spettacolo degli antichi mestieri in movimento della proloquo vita ad altri tempi di Correzzola a Padova. Alle ore 16 e 15 presso il teatro Sala Polivalente animazioni con il piccolo coro Santa Cecilia di Adria diretto dal maestro Cristiano Roccato. Ore 17 e 30 arriva in piazza Libertà il magico corteo dei Pastori, Re Magi e della Befana del coro Voci del Delta di Taglio di Po. Ore 18 e 15 gran finale in piazza Cinzio Cassetta con il ballo augurante al nuovo anno dei Bontemponi e il rogo D'Laveccia. Le manifestazioni sono gratuite. Iniziativa finalizzata alla raccolta fondi per malattie genetiche e tumorali. Il 6 gennaio, sesta festa della Befana a Bottrighe. Media Partner Radio Viva FM.